Oggi scopriamo insieme cosa accadrà prossimamente nella trama della nostra serie turca preferita Terra Amara. Prima di iniziare mettete un like al video e iscrivetevi al canale, per noi è molto importante. Zuleyla si risveglia dal coma e il suo marito le chiede di perdonarlo, mentre Unkar avrà un confronto diretto con Selda. Inoltre Gafur apprende che l'assassino di Gengavier è Artip. Ma ora vediamo tutto meglio e nei dettagli. Zuleyla, dopo una lunga operazione durata circa otto ore, dopo essere stata colpita al torace da uno sparo, si trova in ospedale da... Ma tutti i medici, amici, conoscenti ed Emir e anche Unkar credono che sia stata lei stessa a causare tutto questo. La realtà però è un'altra. La causa del suo male è Mujigan. Ma prima la dottoressa aveva tentato di costringere Zuleyla a togliersi la vita, facendole legare un capio al collo con le sue stesse mani, facendolo salire su una roccia e, sotto la minaccia di una pistola che Mujigan le puntava, doveva farsi scivolare. Ma, dall'altra parte, fei che gli e Beiche a un certo punto apprendono la notizia del ricovero della giovane e che, inoltre, è in pericolo di vita. All'Iramet, appena saputo questa notizia dalla sua domestica, è molto preoccupato per la povera Zuleyla. Si precipita a questo punto in ospedale immediatamente, mentre la zia di Mujigan non riesce proprio a credere al fatto che la ragazza, dopo quel colpo al petto, sia ancora viva e dentro di lei dice, ma questa ragazza ha proprio sette vite. Dopo un po' arriva anche Mujigan, che rivolgendosi sempre a Beiche, esterna alla sua preoccupazione di non essere riuscita a mettere a tacere per sempre la sua rivale. Così, zia e nipote escogitano un piano per mettersi nell'ombra e far sì che Zuleyla non dica nulla alle autorità. Dall'altra parte, la polizia sta indagando ancora sull'omicidio di Gengavier, poiché l'assassino non è ancora stato scoperto. Atip, invece, ha corrotto Rachid in modo che continuasse a coprire la sua colpevolezza, dopo aver fatto sparire la sua pistola ed averla nascosta per sempre, secondo lui. Ma quest'ultimo, dopo essersi avvicinato a Fadik, intraprende una conversazione con Gafur e in quell'occasione svela la verità sul vero aggressore di Gengavier. Quindi, dopo che Rachid ha confessato che Atip ha ucciso Gengavier, proprio in faccia a Gafur in maniera spontanea, Gafur è completamente fuori di sé e decide di farsi giustizia da solo. Così Gafur mette in piedi un piano e inizia il suo piano minacciando Atip tramite lettere anonime, che se non gli darà la somma di denaro che gli chiede, rivelerà ciò che ha fatto alle autorità. Atip a questo punto è costretto ad accettare di pagare l'ingente somma di denaro al suo ricattatore, di cui però non conosce l'identità, e riempie una valigetta di soldi per portarla dove è prestabilito. Al contempo, Fecheli, giunto in ospedale, intrattiene per la prima volta una conversazione sincera e tranquilla con Demir, che gli esprime tutta la sua preoccupazione per ciò che sta passando Zuleyla a causa sua, e rivolgendosi a Zuleyla prega perché si risvegli presto. Fecheli cerca anche di confortarlo perché è in un momento in cui sta soffrendo, nella stanzetta da dove vedono il letto di ospedale dove giace Zuleyla e che non si muove assolutamente è in coma. Fecheli successivamente vede Ilmaz, il quale dichiara ad Alir Ahmed di non avere più intenzione di avere a che fare né con Mujigan né con Beice. Akaya ora vuole divorziare da Mujigan e confessa a suo padre Fecheli ciò. Giunge così la notte e Unkar a questo punto decide che deve prendere una decisione e non lasciare più che succeda come è successo precedentemente di perdere se stessa. Così decide di andare ad affrontare direttamente Sevda. Unkar vuole soltanto allontanarla dalla sua famiglia per il bene di tutti. Una volta di fronte a Sevda, Unkar riesce perfettamente nel suo intento, sottolineando che Sevda ha sempre voluto ciò che apparteneva a lei, a partire da Adan e finendo a Demir e i suoi figli. Ora la donna non rimane in silenzio, anzi le risponde facendole notare che non è riuscita allora a separarla da Adan e Demir e tantomeno ci riuscirà ora. Unkar però controbatte e le dice che suo marito aveva tante cose con cui giocare e che lei non era l'unico giocattolo con cui si trastullava e quindi era soltanto una tra le tante donne di Adan senza essere la sua privilegiata. La matriarca però sta per scoprire un fatto di cui non riuscirà a liberarsi tanto facilmente e che la colpirà duramente. Sevda e Zrela ad Unkar che lei ed Demir hanno trascorso tanto tempo insieme e passato diversi momenti insieme e che lo Yaman ha sempre trovato un modo per andare a trovarla fin da ora. Unkar è incredula e attonita ma Sevda continua a parlare dicendo alla matriarca che lei è stata la madre di cui Demir ha sempre avuto bisogno e che ancora ora va a trovarla e lui la ritiene sua madre. Dall'altra parte Demir è ancora in ospedale da Zuleyla e non la lascia nemmeno per un secondo. Lo Yaman è in pena per sua moglie fino a quando Zuleyla apre gli occhi segnando così il suo risveglio dal coma. Zuleyla rimane sorpresa dalla sua presenza. Di nascosto Ilmaz assistito alla ripresa di coscienza di Zuleyla guardando dalla finestra della stanza dell'ospedale posizionato in un angolo in modo che nessuno le vedesse e una volta preso al suo miglioramento se ne va. Comunque Demir in quell'occasione dice a Zuleyla di essere pentito e dispiaciuto per il male che le ha fatto in tutto questo tempo e soprattutto perché l'ha portata a fare questo gesto estremo con la sua cattiveria arrivando così alla sua disperazione. Così le promette che non la allontanerà mai più dai suoi figli e che insieme d'ora in poi saranno una vera famiglia. Demir si fa carico di ciò che ha passato Zuleyla non sapendo però che la verità è ben un'altra assicurandole una vita diversa e degna di essere vissuta nel massimo rispetto nei suoi confronti. Demir svela a Zuleyla che il fatto di aver temuto di perderla per sempre gli ha fatto capire tutto il male che le ha recato in tutto questo tempo e le giura che da questo momento in poi sarà diverso e ricostruirà la sua famiglia nel migliore dei modi e senza fare soffrire nessuno. Zuleyla in tutto ciò è d'accordo a ricominciare tutto da capo. Nonostante ciò Zuleyla proprio durante la sua permanenza in ospedale ha capito di volere raccontare la verità sul piccolo Adam a Ilmaz perché ormai la sanno in troppe persone e sarà un segreto che uscirà quindi è più giusto che sia lei stessa a raccontare al papà del bambino che lui è veramente suo padre. Dall'altra parte Atip decide di divorziare da sua moglie ma Nassie per vendetta rivela l'identità dell'assassino di Jean Gavier alla polizia dopo aver dichiarato ad Atip che non l'avrebbe più messa nell'ombra e aiutato. Anzi Nassie da questo momento vuole solo che suo marito paghi per ciò che ha fatto durante la sua vita. Dunque anche questo fantastico ed emozionante episodio è giunto in conclusione. Rimanete aggiornati, iscrivetevi al canale per non perdervi alcune anticipazioni sulla vostra serie turca preferita. Grazie e a presto!